Benvenuti, benvenuti! Benvenuti ai telespettatori, canale 14, Teneromagna in tutta la regione, benvenuti chi ci segue anche su tvbologna.it, Obeia, oggi siamo in un posto molto molto particolare, Obeia è questa grande stanza di lavoro, è una redazione di un grande quotidiano, è una grande stanza di lavoro, di ragionamento, di confronto, io sono in un tavolo molto importante, ovviamente non è il mio tavolo, ma è così saluto subito e ringrazio Agnese Pini, è la direttrice di quattro quotidiani, quotidiano nazionale, il resto del Carlino, la Nazione e il giorno. Benvenuta e grazie di averci accolto Agnese. Grazie e benvenuti a voi a questo punto. Ci daremo del tu, lo dico perché siamo colleghi giornalisti, anche se ovviamente di due realtà diverse. Allora, questo dicevo è il tavolo importante, cioè un quotidiano, il quotidiano anche che leggerete domani, in qualche modo nasce su questo tavolo, cioè qui avvengono gli incontri, i confronti, come funziona? Conferamo, questo è proprio il tavolo su cui organizziamo le riunioni di redazione, che sono davvero l'intelligenza collettiva che sta dietro al prodotto giornale. Cioè giornali che cosa sono alla fine? Sono un insieme di scelte, perché tutto quello che voi trovate su qualunque giornale è, per dirla proprio in estrema sintesi, un insieme continuato di scelte possibili. Chiaramente sui giornali non c'è tutto quello che succede nel mondo, o nella vostra città, o nella vostra regione, perché è impossibile farcelo stare. Quindi bisogna fare delle scelte di qualità, di quantità, di posizione, dove mettiamo una notizia piuttosto che un'altra. E queste scelte vengono prese abbastanza democraticamente a questo tavolo. Perché dico questo? Perché c'è una cosa molto importante da sottolineare sui giornali, soprattutto oggi, in cui il web sta prendendo sempre più piede, anche sotto forma di, per esempio, giornalisti freelance, influencer, blogger, che autonomamente fanno la professione giornalistica in maniera ottima, devo dire. Però i giornali digitali o cartacei o televisivi o radiofonici hanno una marcia in più, anzi hanno una garanzia in più. Cioè sono appunto il frutto di scelte collettive. E siccome ogni volta che tu scegli i rischi di sbagliare, è motivo per cui i giornali hanno tanti errori, perché sono pieni di scelte, quindi di potenziali errori, forse il nostro è il mestiere in cui hai il più alto margine d'errore possibile, fra tutti i mestieri del mondo. Dicevo, il margine d'errore diminuisce perché si è in tanti a prendere le scelte. Quando sei da solo rischi di sbagliare molto di più. Per questo un giornale cartaceo, digitale, televisivo, radiofonico, comunque sbagliando, ti darà meno errori di quanti te ne possa dare un singolo, per quanto eccezionale, bravissimo e super talentuoso. Senti, prima di entrare ancora più nel merito di questo, di un quotidiano, di come vive una redazione, insomma, Agnese Pini, donna, giovane, è la prima direttrice donna di questo gruppo ed è oggi l'unica direttrice donna dei quotidiani. Cosa pesa di più in questo mestiere, in questo ruolo? Essere donna o essere giovane? Pesa tutto. Quando si ricopre un ruolo di leadership, come quello di una direzione di un giornale, appunto, in cui si è chiamato a prendere tante decisioni, quindi è una leadership al quadrato, perché è appunto un mestiere in cui si decide tantissimo e continuamente, è chiaro che quello che sei, declinato in tutti i modi possibili, il genere, l'età, il curriculum, l'esperienza, pesa e conta moltissimo. Pesa e conta moltissimo perché in qualsiasi ruolo di leadership la personalità è centrale nell'esercizio, quindi nella personalità c'è tutto, c'è chi sei, come sei, da dove vieni, che cosa hai studiato, che cosa hai mangiato, che cosa hai ascoltato e quando guidi qualcun altro tutto questo che sta dentro la tua personalità inevitabilmente viene fuori, nel bene e nel male, si spera sempre più nel bene che nel male. Allora, il resto del Carlino, quotidiano nazionale, adesso per chi ci segue in questa nostra regione, Emilia Romagna, è il resto del Carlino, il quotidiano diciamo di riferimento, ha questa caratteristica anche unica di tante redazioni locali, ogni città, ogni provincia ha la sua redazione, per cui la più grande, la più piccola, questa è una caratteristica però diciamo essere sul territorio perché alla fine, come dire, insomma il nostro lavoro è quello di essere a contatto con le persone, a contatto con... anche questo ovviamente va monitorato in qualche modo, sì. È la vera grande forza del resto del Carlino, così come degli altri giornali di questo gruppo editoriale, quindi La Nazione e Il Giorno, la diventa ancora di più oggi perché nella nostra realtà contemporanea e quotidiana stare a contatto con gli altri è molto difficile, è molto difficile capire le istanze e le esigenze degli altri proprio perché siamo in una società che è sempre più fluida, contaminata dal web, dai social network, da delle realtà parallele virtuali rispetto a quella concreta che continuiamo a vivere, a volte anche a subire sulla nostra pelle. Per un giornale continuare quindi a svolgere il suo lavoro di essere al servizio dei cittadini, cittadini intesi come lettori, è molto complesso. Allora quando tu riesci, come nel nostro caso, a stare ancora dentro le città, perché hai lì una redazione, hai lì un gruppo di colleghi, hai lì un capo di una redazione, hai un campanello a cui si può suonare, un indirizzo fisico a cui poter mandare una lettera, anche se ormai ovviamente se ne mandano pochissime di lettere fisiche ai giornali, però è centrale perché questo dialogo che è sempre più difficile col tuo lettore riesce comunque a mantenersi vivo e la forza della redazione locale è proprio questa, il fatto che la redazione locale rappresenta in tutto e per tutto il giornale in quella città, è il giornale in quella città, il capo della redazione locale è il direttore del giornale in quella città, esprime e rappresenta il giornale, ed è giusto e bello così, perché è quello che ti dà appunto la forza che ti consente di essere leader nei nostri territori da secoli abbondanti, per qualche rigardo alla nazione, il carlino soprattutto. Allora sicuramente di Agnesi Pini l'avrete seguita, non solo perché leggete quello che scrive, vedete il giornale che fa, ma anche perché spesso è ospite di trasmissioni talk show nazionali, quindi oggi vorrei magari una domanda sulla politica, la posso fare, una domanda vabbè ci può stare, però l'idea è un po' capire questo lavoro proprio da giornalista, nel senso che ti è nata un po' così la voglia e il desiderio di fare, hai detto io voglio farla al giornalista, c'è stato un momento, un episodio? Sì, una cosa che tra l'altro racconto sempre volentieri, perché è un ricordo a cui sono molto affezionata, molto personale e legato alla mia adolescenza, quindi gli voglio particolarmente bene a questo ricordo. e appunto la prima idea di avvicinarmi al mondo del giornalismo l'ho avuta nel 2001, l'11 settembre, era il giorno delle Torre Gemelle, ed è scattato davvero qualcosa di diverso rispetto all'approccio che avevo avuto fino a quel momento con il mondo dei giornali, come tutti gli adolescenti anche della mia generazione, la maggior ragione di questa, avevo poca dimestichezza con i giornali, li leggevo poco, i miei genitori li compravano, li guardavo a casa, insomma mi ci avvicinavo con un po' di strumenti, insufficienza. Quando scoppiano, quando crollano le Torre Gemelle, la domanda che mi viene è non che cosa fosse successo, perché lo sapevamo, lo vedevamo, all'epoca non c'erano i social network, ma c'era già internet, c'erano le dirette, le maratone televisive, su tutti i canali, a reti unificate, quindi si sapeva esattamente che cosa stava accadendo, ma c'era una domanda a cui invece si riusciva a rispondere con fatica, cioè perché stava succedendo una cosa di quella portata storica, la crolla del Torre Gemelle l'ha segnato alla mia generazione in una maniera fortissima, perché è stato uno spartiacque vero tra un prima e un dopo, un effetto che può aver avuto sulla generazione precedente del crollo del muro di Berlino, e non era facile rispondere alla domanda del perché, e quelle dirette televisive, i siti internet che già abbondantemente esistevano, non davano delle risposte a quel perché, mi ricordo che a scuola se ne parlava, discutevamo, facevamo manifestazioni e scioperi, ma era difficile rispondere a quella domanda, e quindi un giorno mi decido di aprire il giornale che avevo a casa, era il Corriere della Sera, e il Corriere era diretto da De Bortoli nel 2001, fece in quel caso un'operazione straordinaria, a proposito di che cosa sono i giornali e che cosa servono, cioè iniziò a ospitare una serie di giornalisti incredibili, oggi purtroppo sono tutti morti, giornalisti intellettuali, che dicevano alla loro sul perché delle Torre Gemelle, e la prima che scrisse fu Oriana Fallaci, che io non conoscevo, non essendo una lettrice dei giornali, quindi trovo questo pezzo, che diventerà poi il libro La rabbia e l'orgoglio, molto discusso, molto divisivo, totalmente ignara di chi mi trovassi di fronte, e adesso sconvolta dalla bellezza di quella scrittura, cioè dalla capacità della Fallaci di fare il suo mestiere in una maniera incredibile con cui lo sapeva fare, cioè, non lo so, le parole uscivano dalla carta in maniera quasi tridimensionale, tanto erano forti, riusciva a dare dei messaggi in una maniera così convincente, equivocabile, netta, che le stai proprio stupita, e non solo le stai stupita, ma mi trovai a dare le ragioni, perché lo scriveva così bene, quello che scriveva, che era impossibile darle torto, e quindi ero molto contenta di aver detto, ah, finalmente ho la risposta che cercavo. Il giorno dopo, mio padre compra di nuovo il Corriere della Sera, e dico, a questo punto me lo rileggo, e dopo la Fallaci scrisse Terzani, Tiziano Terzani, un altro gigantesco giornalista, che scriveva altrettanto bene, in un modo completamente diverso, ma altrettanto bene, e scriveva il contrario di quello che diceva la Fallaci, ma proprio il contrario. Però lo diceva anche lui così bene, che finito di leggere Terzani, davo ragione anche a Terzani. E allora come ne esci? Beh, ne esci continuando a leggere i giornali, e dopo Terzani scrisse Dacia Maraini, poi Sartori, insomma, ci fu questo dibattito a livello altissimo, e ognuno diceva la sua opinione, e alla fine riuscì a farmi anche io un'opinione. Ed è la prima volta in cui la mia vita sono riuscita a farmi un'opinione di qualcosa, che fosse mia, che non fosse copiata da qualcuno. E quando tu riesci a farti un'opinione che sia tua, la senti, è una conquista che ti fa battere il cuore, senti che è scattato qualcosa, ne sei così fiero, e così orgoglioso, che poi quell'opinione lì non è che la dai più via, per poche dire, ci tieni proprio. Ecco, i giornali servono a questo, a farsi una propria opinione forte, dandoti la possibilità di poter divagare, leggere tra quelle degli altri, il più autorevole possibile, possibilmente. E questa è una grande conquista per un adolescente, ed è un grande sogno per chi vuole approcciarsi a una professione. Farti una tua opinione. Quindi in qualche modo, una domanda o un'osservazione che molti fanno, dicono, ma come io leggo una cosa sul resto del Carlino, leggo il contrario sul Corriere, una terza visione su Repubblica, poi a volte c'è anche il fatto invece che i titoli e le notizie sembrano un po' tutti uguali, da qui c'era anche la storiella, che si sentivano i grandi direttori, tu senti i grandi direttori dei quotidiani prima di fare il titolo, al giorno dopo no? No. Tanto, anche se fosse così, mai me l'avresti detto. Beh, comunque, davvero no. Anche perché devo già sentire i miei colleghi a questo tavolo. Sì, sembra abbastanza ritelefonato. Esatto. Però l'approccio, a volte uno dice, c'è una cosa completamente diversa, ecco. Tenendo sempre conto che poi un aspetto sono i fatti, no? L'11 settembre dicevo, quello è un fatto, è un fatto che... Poi è ovvio che c'è una mediazione, uno studio, un'opinione, e quella deve essere diversa, questo è inevitabile, ecco. Però a volte il lettore rischia di essere un po' spiazzato, dice, ma come qui mi ha detto questo e quell'altro mi dice quell'altro. È spiazzato perché farsi una propria opinione è qualcosa di difficilissimo. Per arrivare a farti una tua opinione è un lavoro, cioè bisogna leggere moltissimo. E questa è la cosa poi complicata, no? Anche nel mandare messaggi, perché è comodo abbracciare l'opinione altrui quando ci convince. Appunto, se io mi fossi fermata al primo articolo, quello di Raffalaci, lei mi dava la risposta che mi sembrava convincente, mi sarei fermata lì. Se non avessi letto il giorno dopo Tiziano Terzani non mi sarebbe venuto il dubbio che forse quella non era l'opinione unica e incontrovertibile. Allora, arrivare a farsi una propria opinione è molto complesso e occorre anche da parte del lettore una grande capacità di muoversi attraverso le giuste diverse opinioni che ci sono sui fatti. Ma per fare un lavoro di questo tipo con onestà intellettuale occorre una grande fatica, per questo non sempre si fa, non tutti lo fanno, non lo faccio sempre nemmeno io, neanche noi che lo facciamo di mestiere, perché è davvero un lavoro intellettuale molto faticoso, molto difficile, molto oneroso e anche non sempre prendi una posizione poi che riesci a mantenere nel tempo con cui trovi anche una coerenza nei confronti di te stesso. Però questo penso che sia un buon modo per capire se un'opinione ci è consona, cioè se è fedele a quello che noi siamo, se risponde in maniera profonda e fedele da quello che poi noi davvero sentiamo e siamo. Senti, ci racconti un po' la giornata tipo, nel senso, allora tu sei una persona che viaggia molto perché appunto tutte le testate hanno sedi e quant'altro, però un po' la giornata, nel senso che quando è la prima riunione di redazione, cioè avviene la mattina, quando è che uno pone un po' le basi del quotidiano, del giorno dopo ricordiamo, oltre tutto il lavoro del web, perché poi ricordiamo che queste testate sono comunque online, quindi, però un po' come funziona? C'è un primo momento? Da quando internet è entrato prepotentemente dentro le redazioni è cambiato molto anche l'agenda della giornata e delle riunioni. Tieni conto che i colleghi dell'online entrano, hanno il primo turno alle 7 del mattino, che sembra presto ma non lo è, perché alle 7 del mattino è quando le persone si svegliano e devono già trovare un prodotto fresco su internet. Il primo punto, quindi con i colleghi del digitale, si fa intorno alle 9 e mezzo. Tieni conto che alle 9 e mezzo del mattino loro lavorano già da due ore e mezzo, quindi hanno già un quadro di quello che sta succedendo nel mondo in Italia, in Emilia Romagna, Bologna o Modena o Ferrara o Grosseto, nel caso della nazione. E quindi si fa un primo punto con loro. Il primo punto, invece, la prima riunione con la carta e il web insieme, quindi integrata, si fa invece alle 11. e questa è la riunione più importante della giornata, perché ci dà la possibilità di avere già un quadro di quello che sta succedendo e quindi un'idea di massima di come sarà il giornale del giorno dopo. Tieni conto che si sta tutto spostando verso il mattino il lavoro dei giornalisti, anche i giornalisti di carta, mentre una volta era molto spostato sulla sera, cioè fino a dieci anni fa la riunione principale si faceva nel primo pomeriggio, mentre oggi con il web non ha molto senso, quindi devi anticipare. La seconda riunione, che è quella che va a definire davvero il timone, per cui il timone sarebbe la scansione delle pagine del giornale, per cui salvo catastrofi, imprevisti, ovvi che ci sono più o meno tutti i giorni, resta quella, la facciamo intorno alle 3 del pomeriggio. Quindi più o meno alle 4 del pomeriggio l'idea del giornale è definita, salvo la cronaca. E l'ultima riunione si fa, sempre insieme al web, ovviamente, la sera alle 7 e mezzo, in cui decidiamo la prima pagina. La riunione è conclusiva della giornata, e da lì poi si va in chiusura fino al notturno, quindi si chiude intorno a luna di notte ancora. Chi fa il titolo della prima pagina? Il titolo della prima pagina si decide, lo fa il direttore insieme. È un momento di confronto, ok. Sì, anche quella è una riunione che viene fatta per il motivo che dicevo all'inizio, cioè i giornali sono scelte, la prima pagina è frutto di scelte delle scelte, cioè date le scelte del giornale, devi fare una sintesi di scelte per la prima pagina, e anche qui il confronto è fondamentale, perché se fossi da sola a decidere la prima, io come chiunque altro avrei molte più possibilità di sbagliare, di valutarmi una notizia, di non capirne un'altra, è proprio l'ossatura del mestiere. Queste riunioni sembrano tante, ma i giornali si fa solo con le riunioni, e le riunioni sono fondamentali per sbagliare un po' meno. Senti, allora devo farti qualche domanda, un po' come farebbero tutti i giornalisti seri, cioè un po' all'olentano. Bologna, città di Bologna, è una realtà che tu già conoscevi probabilmente prima, vieni comunque da Firenze, dalla Toscana, sono due regioni che anche politicamente hanno vissuto percorsi molto simili, politicamente o partiticamente, ovviamente c'è sempre stato un tentativo di dialogo tra Bologna e Firenze, è iniziato col sindaco Cofferati, poi è andata avanti anche con Mero, adesso anche lo stesso Lepo, anche se vedo che alla fine non è che il dialogo sia così immediato e quant'altro. Città di Bologna, questa realtà, questa cittadina così vivace, così particolare, come dire, parlando anche di Bologna, come la trovi, come l'hai trovata, come la stai trovando? Se devo dire, parlare a livello empatico, ti dico che è una città che mi mette molta allegria, è davvero una città che ti riconcilia col tuo buon umore e questo penso che oltre che per Bologna sia per la bolognesità. In questo senso i bolognesi sono molto diversi dai fiorentini, cioè sono proprio geneticamente diversi, un'altra specie, un'altra etnia rispetto ai fiorentini e questa è la cosa che ho apprezzato di più trasferendomi qua ed è la cosa che mi ha fatto subito più impressione in senso positivo, perché non mi aspettavo il calore umano che Bologna è in grado di dare e ha un'altra cosa che ho trovato assolutamente particolare Bologna, cioè è una città estremamente, a misura d'uomo, nella misura in cui appunto sa essere così empatica, anche tra le persone, quindi sa ricreare nei quartieri un po' quella specie di affettività che si trova nei rioni, nei paesi, e però ha una dimensione culturale, intellettuale, anche politica in senso alto, davvero di livello altissimo e è una contraddizione strana, anzi non è una contraddizione, secondo me è una giusta fusione che dà a Bologna lo status di città meravigliosa e straordinaria, insomma che merita e che ha da secoli giustamente. E' gestita bene? E' una città complicata e quindi è complicato gestirla bene nella misura in cui, per le cose che poi attengono molto a quello che un cittadino vuole dalla sua città, che sono cose piccole, banali, ma molto difficili, sentire la percezione della sicurezza, la pulizia, del decoro, sono tutte queste cose che fanno l'ossatura del quotidiano. In questo senso Bologna è complicata, perché è una città stratificata, ha dentro di sé tante città, c'è l'università, c'è la borghesia, ci sono gli intellettuali, appunto ci sono la zona del commercio, è una città che veramente vive su strati e quindi è difficile amalgamarli bene e gestirla bene da questo punto di vista. e però si vive proprio bene a Bologna, quindi secondo me a un certo punto, a un certo punto anche i difetti, i piccoli difetti del quotidiano passano decisamente in secondo piano, questo lo dico da ospite, da ospite di questa città. Ci si sta così bene che il resto si nota poco. Senti, e qualche salotto bolognese sta cercando di... Sai che Bologna va molto per salotti, forse anche Firenze, non lo so, però Bologna è famosa perché si va un po' per salotti dove ci sono comunque dialoghi, confronti, non è un senso negativo, anzi tutt'altro, diciamo così. Ti tirano un po' per la giacchetta? Ma a me piace passeggiare, quindi sono meno da salotto e sono più da promenade, come si dice. E quindi vabbè, senti, Partito Democratico, un'altra... Ci sono ben tre emiliani in Lizza, una acquisita che è la Schlain, però era, come dire, vicepresidente di questa regione, c'è Bonaccini, c'era De Micheli, poi c'è anche Cuperlo, però alla fine, insomma, questa Emilia-Romagna è una regione che col PD ha sempre avuto grandi numeri, questa città in particolare. C'è qualcosa che ti preoccupa in questa corsa alla segreteria? Mi preoccupa rispetto al Partito Democratico il fatto che questo congresso deve, dovrebbe, doveva servire anche non soltanto a trovare un nuovo segretario, ma a gettare lo staturo e le basi di una nuova visione di partito che ha mostrato negli ultimi anni di avere bisogno di una strada nuova, di un indirizzo nuovo. Questo si è visto anche rispetto ai risultati elettorali, quando gli elettori e i cittadini non ti premiano le urne è perché non capiscono più il messaggio di fondo che tu stai dando al tuo elettorato. E questo il PD ha anche per colpa delle vicissitudini, per colpa, a causa delle vicissitudini degli ultimi anni travagliate da l'era Bersani, l'era Renzi, Zingaretti, insomma, sappiamo, no? Quanto sia stata complessa anche a livello di leadership la storia degli ultimi anni del PD, la persa. E la persa per un altro motivo, sempre a proposito di leadership, c'è un partito che cambia il suo segretario ogni anno e mezzo, è come se fosse un allenatore di pallone, non fa bene, non fa mai bene, perché per dare una visione a qualunque cosa, soprattutto a un progetto politico, ci vuole tempo. E un anno, un anno e mezzo, due anni è pochissimo, non dai nessuna visione in un anno e mezzo, due, al massimo sedi qualche lite, ma non dai nessuna impronta. E questo è il peccato originale del PD più grave. Cioè, non aver dato abbastanza fiducia ai suoi leader, averli un po' presi, masticati e buttati via, non fa bene la politica, non fa bene nessun progetto, ma la politica meno che mai. Ecco, quello che deve fare questo congresso è porre prima del leader chiunque sarà le basi chiare di una visione del partito, in modo tale che il prossimo leader potrà restarci in sella almeno più di, almeno tre anni via. È una chance davvero necessaria perché quello che è un grande partito progressista, riformista del paese non disperda completamente un patrimonio storico e decennale, di cui anche il paese ha bisogno, nel senso che in questo caso un'opposizione, perché il PD si trova in un'opposizione debole, indebolisce complessivamente una struttura paese, una struttura democratica. Primo luglio 2022, Agnese Pini, diventavi tu direttrice del gruppo, pochi mesi dopo è arrivata la Meloni capo del governo. Pensiamo un po' al governo, l'osservazione sull'opposizione è chiarissima, è chiaro che anche chi amministra ha bisogno di un'opposizione vivace, devo dire che anche in queste terre l'opposizione non ha mai forse avuto un ruolo così decisivo. A livello nazionale c'è un nuovo governo, c'è questa spinta, c'è questo momento ancora molto di luna di miele, cioè la benzina toglie l'accise, vabbè il gas, le bollette sono arrivate, sono delle mazzate, però c'è ancora questo momento, come dire, cos'è? Più di attesa, di speranza, di novità, cioè cosa sta? Entusiasmando ancora così tanto molti italiani. Hai fatto bene a sottolineare l'aspetto della luna di miele, perché è proprio questa una contraddizione che trovo rispetto al nuovo governo e che non riesco ancora a comprendere bene, e cioè proprio a fronte del grande risultato elettorale che c'è stato il 26 settembre alle urne e poi a fronte soprattutto del gradimento ancora altissimo che c'è nei confronti di questo governo, in questi primi 100 giorni si è mosso con una timidezza rispetto ad alcuni temi tra l'altro molto identitari, non entro nel merito del abbontomeno dei temi, ma sono temi a cui appunto questo governo teneva in maniera identitaria molto forte, dai rave ai migranti all'ultima polemica appunto su le accise sulle bollette e l'ho trovato molto prudente ed è strano perché in un momento in cui tu sei invece col vento in poppa hai un gradimento così forte potresti usare di più e invece questo è un governo che su molti di questi temi ha lanciato il sasso e poi ha tirato un po' indietro la mano, cioè ha annunciato un provvedimento e poi lo ha ammorbidito, è tornato un po' indietro, ci ha ripensato, ha rimesso in discussione la cosa ed è legittimo, va benissimo, ma è un po' in contraddizione direi rispetto appunto a una fase in cui come giustamente sottolineavi tu la luna di miele è ancora a vere spiegatissime a vere spiegatissime e quindi insomma per un governo che si è posto certamente nella distanza di cinque anni quindi una lunga distanza a proposito del tempo che ci vuole per fare le cose di rivoltare il paese di cambiarlo di trasformarlo questa prudenza iniziale in una fase così favorevole mi ha un po' stupito anche rispetto poi alla forza che avrà per cambiare effettivamente le cose con quel vigore con cui la stessa Giorgia Meloni ha annunciato di voler operare allora le domande le ho fatte queste qui anche questa parentesi torno un attimo al tema del giornalismo e dopo sentiremo invece Sergio Finelli che è dietro la tua scrivania quindi poi siamo appunto nell'ufficio della direttrice per raccontarci qualcosa di questo quotidiano perché nel senso che oggi bisogna incoraggiare a fare questo mestiere oppure proprio come dicevi tu oggi come dire c'è i videomaker c'è i freelance c'è l'influencer ci sono altre figure per cui tante volte uno si scoraggia davanti anche a questo mestiere del giornalista e quant'altro va consigliato secondo te? assolutamente sì totalmente sì e non solo perché anche le figure che dicevi te prima sono giornalistiche no? cioè poi si possono prendere chiaro che un influencer di per sé non è un giornalista ma esistono giornalisti influencer e sono giornalisti a tutti gli effetti ma poi perché in questa grande epoca di trasformazione del nostro mestiere che va avanti da un po' di anni da una ventina d'anni che sono vent'anni che è iniziato che è iniziata la trasformazione dei giornali col progressivo calo delle coppie di carta l'avvento del digitale poi dei social quindi una trasformazione lenta ora siamo davvero in una nuova fase di svolta in cui intanto ci sono molti più spazi per i giornalisti anche giovani che cominciano proprio perché ci sono siti ci sono giornali che esistono solusi social ci sono nuove forme di giornalismo che stanno prendendo piede in maniera fortissima incredibile e perché i giornali tradizionali hanno bisogno di figure che sappiano approcciarsi a questi nuovi media e che è difficile formare all'interno di redazioni già costituite per cui c'è fame di nuovi giornalisti molto più di quanto ce ne fosse quando ho iniziato io per esempio da 15 anni fa in cui era un momento di passaggio ma era appena cominciato e ancora davvero non era chiara la direzione che si stava intraprendendo e c'è un motivo in più per cui adesso è un ottimo momento per consigliare davvero questo mestiere e cioè che c'è bisogno di ritrovare e lo si può fare solo attraverso una formazione professionale forte e vera l'identità originale di che cosa significhi fare il giornalista che a volte si confonde un po' appunto con altre figure professionali cioè si tende a confondere l'informazione con la comunicazione sono cose profondamente diverse comunicare non significa informare quando il presidente del consiglio o la presidente del consiglio fa le sue dirette su twitter non sta informando sta comunicando e qui c'è bisogno di giornalisti e sempre più di giornalisti per far sì che questo messaggio sbagliato cioè che comunicare e informare sia la stessa cosa non passi per informare ci vuole una figura terza imparziale che faccia la filtra tra il potere e il popolo tra il potere e il cittadino non se ne può fare a meno e oggi più che mai ce n'è bisogno e oggi più che mai c'è bisogno di giornalisti hai fatto bene hai usato la parola filtro mediazione questo poi è il compito di noi giornalisti allora io a questo punto qualche minuto andiamo dentro la Toschimania con la nostra Sergio Finelli nostra guida turistica che ci racconta qualcosa noi non sappiamo bene cosa poi possiamo immaginare visto dove ci troviamo però Sergio se tu sei pronto e ci sei io ti cedo volentieri la linea al microfono grazie Francesco mi scuso intanto per la voce malani di stagione in effetti qui potrebbe sembrare una zona un po' difficile da raccontare ma in realtà c'è tantissimo di interessante sia logisticamente che anche ricostruendo la storia di questo giornale logisticamente siamo a due passi da Villanova di Castenaso Villanova ci ricorda la civiltà villanoviana che è una delle basi fondamentali della nostra della nostra civiltà i villanoviani sono quelli che precedono gli etruschi ormai sono considerati etruschi anche loro diciamo la prima fase di questa grandissima civiltà etrusca che poi dopo venne sostituita dai romani poi diciamo il resto lo sappiamo si chiama Villanoviana esattamente perché il conte Gozzatini a metà dell'ottocento trovò i resti di una necropoli nei suoi terreni e quindi la frazione di Villanova ha dato il nome a questo aspetto così importante sia dal punto di vista archeologico che anche storico in questa strada la via Mattei trova la sede questo gloriosissimo giornale che è il Carlino il resto del Carlino che ha sede in un edificio progettato da un archistar quindi è Enzo Zacchiroli che nella seconda metà del novecento ha progettato alcuni dei più importanti edifici di Bologna e effettivamente ha talmente tanta storia talmente un giornale importante che meritava una sede prestigiosa gli esordi di questo giornale sono in realtà in centro e rispecchiano anche un po' l'evoluzione della nostra città anche dal punto di vista urbanistico è particolare pensare ma forse neanche così tanto che la prima sede la prima topografia fosse in pienissimo centro in via Garibaldi vicino a piazza Cavour e anche lo spostamento successivo sarà sempre piazza Calderini quindi pochi metri di distanza ma perché la vita di Bologna si svolgeva ancora ampiamente all'interno delle mura che ricordiamo lo verranno abbattute ai primi del novecento dal 1902 fino a quel momento anche alcune piccole industrie anche dei quartieri popolari operai come quello di via Saragozza il falansterio di via Saragozza quasi alla porta Saragozza era costruita dentro c'era ancora una fortissima mentalità come dire centripeta quindi tutta la vita della città si svolgeva principalmente all'interno delle mura sarà solamente con l'abbattimento delle mura e la creazione delle periferie delle zone industriali che Bologna comincerà a espandersi e forse anche una chicca interessante magari noi ormai siamo abituati noi cresciamo a come dire a latte e il resto del carlino magari non ci siamo mai interrogati esattamente perché abbia questo nome così particolare può essere può essere interessante ricordarlo quattro amici quattro amici al bar giornalisti che preso lo spunto proprio da quanto succedeva a Firenze una cosa abbastanza analoga quindi prima si è parlato di questa affinità fra due città come Bologna e Firenze un po' anche il nome di questo giornale è tributario di Firenze perché già a Firenze c'era un nome analogo qui venne in qualche maniera modificato quindi il resto del carlino fondamentalmente derivava da una i sigari costavano 8 centesimi e quando uno pagava con una moneta da 10 i 2 centesimi corrispondevano esattamente al costo delle prime edizioni del giornale quindi era anche comodo per il venditore non dovere dare monete abbinava al sigaro abbinava il giornale fra l'altro buffo notare che in realtà il carlino non esisteva più da circa cent'anni perché abbiamo detto 1885 l'anno di nascita del carlino ormai da circa quasi cent'anni questa unità di moneta era stata modificata non esisteva più ma i bolognesi che sono abbastanza come dire abitudinari continuavano comunque a chiamarlo carlino come per l'altro noi abbiamo continuato a ragionare in dire dopo l'euro direi ancora adesso ogni tanto mi sorprendo pensare in dire quindi ci sarà un vero e proprio stravolgimento nelle abitudini dei bolognesi quando verrà aumentato da 2 a 3 centesimi e quindi non tornavano più i conti e quello segnerà anche un piccolo calo delle vene poi rientrerà tutto nei ranghi il carlino da piccolo giornale di piccolo formato in cui non aveva grandi veleità dei giornali nazionali invece crescerà di livello diventerà prima il giornale più importante di Bologna poi lentamente diventerà uno dei più importanti giornali d'Italia e tutto questo ancora continuo è inserito in questo gruppo di cui abbiamo già sentito parlare quindi la storia di questo giornale continua ancora con buona salute e l'augurio che la gente non solo continui a leggere ne legga di più di giornali perché evidentemente stiamo un po' perdendo queste abitudini e che tutto possa procedere nel migliore dei modi grazie a Sergio Finelli grazie a Agnese Fini direttrice del quotidiano nazionale adesso del carlino il giorno la nazione grazie a tutti che ho spettato nel tuo ufficio grazie a voi che ci avete ovviamente seguito vi ricordo l'appuntamento è sempre sul canale 14 tra l'altro la prossima puntata mercoledì prossimo puntata speciale andremo in onda in realtà alle 21.30 in via eccezionale perché Agnese ho messo insieme una decina di grossissimi imprenditori bolognesi a Palazzo De Toschi ospiti della Banca di Bologna per dialogare sui temi dell'economia e di questo 2023 ma noi spero di poter avere ospite altre volte anche nella nostra divisione bella grazie a tutti grazie a tutti grazie alla regia curata da Gabriele De Conto grazie alle riprese di Massimiliano Ceccardi quindi come sempre l'appuntamento è sul canale 14 oppure su tvbologna.it o on demand su tvbologna canale YouTube grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti